La presidenza irlandese vuol cercare di mantenere la Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea. Lo ha ribadito il premier irlandese, Enda Kenney, ricevendo ufficialmente a Dublino il presidente del Consiglio Europeo, Herman Varon Poi. Non è mancata l'ironia durante la conferenza stampa con il presidente europeo che ha tentato qualche parola in gaelico. Il premier irlandese Kenney invece ha intervenuto sulle attuali difficili relazioni con Londra che minaccia un referendum per uscire dall'Unione. La Gran Bretagna è una parte essenziale dell'Unione Europea, dice, e ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato unico, che è molto importante per le imprese britanniche e per i britannici. Mentre cresce l'euroscetticismo in Gran Bretagna, la presidenza irlandese ha sottolineato l'Unione Europea non è un menù dove si sceglie solo quel che si vuole.